Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Pepper H. Collectibles, oggi nuovo video unboxing con l'ultima release di Rocket Toys in scala 1 a 6 Kakashi Atake direttamente da Naruto Shippuden Partiamo come sempre dal box, una scatola molto grande per questo Kakashi di una colorazione verde smeraldo con qualche sfumatura di grigio e nero che mette in risalto il fantastico logo del villaggio della foglia di Konoha nella parte bassa il nome Kakashi così come sui fianchi dove troviamo anche il caratteristico simbolo di Kakashi andiamo ad unboxarlo e qui tolta la parte frontale della scatola troviamo questa fantastica cover con un'anteprima della doll che vedremo all'interno con il nome Kakashi sullo sfondo e questo effetto fumo che mette in risalto un Kakashi alle preso con la lettura del Paradiso della Pomiciata nella sua versione italiana. Rimuoviamo la cover per trovare il classico foglietto illustrativo se così vogliamo chiamarlo che funge da libretto di istruzioni vediamo il primo piano di Kakashi parte frontale parte posteriore della doll tutti gli accessori e sul lato posteriore tutte le istruzioni per il montaggio e qui invece vediamo ancora all'interno del suo blister Kakashi con parte degli accessori perché questa scatola come vi dicevo è molto grande e al piano di sotto nasconde altri accessori la basetta e questo fantastico accessorio che vedremo fra poco tiriamo fuori come sempre tutto dalla scatola e analizziamo gli accessori ecco tutti gli accessori fuori dalla scatola come al solito per Rocket Toys ragazzi davvero un sacco di roba iniziamo dalla basetta che è di forma circolare a modi piedistallo con questo sfondo viola e qualche sfumatura di nero il simbolo di Konoha al centro e una targhetta cromata con il nome di Kakashi e di nuovo il simbolo del villaggio della foia basetta abbastanza leggera in plastica ma comunque effetto estetico davvero incredibile secondo me ovviamente ad accompagnare la basetta i classici supporti e cominciamo da tutto questo vendettio iniziamo dai kunai kunai che abbiamo già visto per quanto riguarda l'unboxing di Rocket Toys di Itachi che vi invito a recuperare questi però ragazzi sono in metallo non so se lo sentite ma questo è metallo anche qui qualche effetto di usura appuntiti molto belli esteticamente tranne l'impugnatura che secondo me poteva essere fatta molto meglio cioè ci sono delle parti scolpite ma questa parte dell'impugnatura invece che essere dipinta in questo modo secondo me sarebbe potuta essere realizzata molto molto meglio andiamo avanti con accessori incredibili per questo Itachi ad esempio il borsellino classico per contenere i campanellini borsellino che è morbido al tatto guardate molto ben realizzato e verniciato guardate anche qui i dettagli sulla cucitura ovviamente è possibile inserire i campanellini al suo interno cosa che farò immediatamente e vi faccio vedere come è attaccabile con un magnete non cade è perfetto quindi ancora una volta mi sento di dire ottois cerca di imparare poi andiamo avanti con i tre volumi del paradiso della pomiciata almeno questa è la versione italiana del nome di questo manga realizzato da jiraiya e ne vediamo ad esempio uno come vedete comunque i dettagli sono incredibili le scritte anche sul lato fantastiche e ovviamente tutti questi sono apribili insomma ci sono le pagine che purtroppo non sono scritte ma c'è soltanto la dedica la firma di jiraiya nella prima pagina e nient'altro purtroppo però comunque ottima realizzazione ottima cura nei dettagli nel realizzare anche queste pagine sono davvero molto piccoli ragazzi bellissimi comunque poi abbiamo i classici accessori abbiamo due occhi aggiuntivi per le facce le teste che andremo a vedere fra poco questo con la pupilla normalissima insomma di kakashi e questo abbiamo un altro occhio con lo sharingan normale guardate anche qui la cura nel dettaglio l'effetto perlacio e lo sharingan che è dipinto egregiamente poi quindi andiamo a vedere appunto subito le facce e le teste ne abbiamo due una e su kakashi la vedremo dopo abbiamo quindi la possibilità di avere tre facce differenti abbiamo questa con quindi la fascia alzata e possiamo vedere appunto lo sharingan ipnotico in entrambi gli occhi di kakashi la realizzazione secondo me è praticamente perfetta il rifacimento di una di un anime quindi di un personaggio di un anime quindi non sto a guardare i dettagli o se la pelle non è non ha l'effetto particolare l'erugo eccetera ma una pelle che risulta ovviamente molto luminosa e molto liscia proprio in stile anime bellissima la realizzazione degli occhi come detto i capelli sono morbidi sempre in pvc ma morbidi l'effetto metallizzato della targhetta con il simbolo di konoha secondo me è meraviglioso guardate come riflette bene la luce e nient'altro da dire ragazzi davvero anche la colorazione la verniciatura le sfumature dei capelli secondo me sono perfetti qui ovviamente c'è la possibilità di rimuovere delicatamente la faccia e come possiamo vedere all'interno ci sono questi diciamo mini joystick che tramite l'utilizzo di questo accessorio è possibile andare a spippolare un pochino per muoverli e dargli la posizione che vogliamo poi invece con quest'altro accessorio che ci fornisce rocket toys questa sorta di molletta possiamo andare a prendere il bulbo culare staccarlo per sostituirlo con ciò che vogliamo ovviamente con gli altri occhi che vengono dati in dotazione per quanto riguarda questo secondo viso invece il classico viso sorvidente di kakashi anche qui la benda è sollevata e come possiamo vedere può essere intercambiato con quello che abbiamo visto poco fa oltre a quello che è addosso a kakashi per andare a rimettere il viso ci sono questi due magneti che si collegano a questi due e poi c'è questa sorta di piano d'invito è molto semplice andarlo a inserire fate sempre attenzione e poi andate a chiudere il tutto tutto molto semplice tutto rimane molto saldo ragazzi quindi davvero grandi complimenti però che toys perché sa veramente il fatto suo poi cominciamo con le mani come potete vedere abbiamo quattro paia più un altro paio che addosso a kakashi abbiamo queste mani con il sigillo del confronto quindi l'approccio al combattimento degli shinobi cura del dettaglio direi abbastanza buona anche qui effetto metallizzato della verniciatura e mi piace tanto quanti con i dettagli giusti non ci sono segni di usura o altro però molto ben realizzati e qui come al solito la cosa che guardo di più sulle mani è la scultura delle unghie con la verniciatura relativa abbiamo quindi questo sia destra che sinistra abbiamo questa mano a palmo aperto diciamo un'altra con una presa leggermente più chiusa poi abbiamo le due mani che vengono utilizzate per il rai kiri ocidori come volete chiamarlo ma dopo andremo a vedere più nel dettaglio come metterle e poi abbiamo un'altra mano con questa con la doppia dita con le doppie con l'indice e medio insomma in su però con una angolazione differente rispetto al sigillo che abbiamo visto prima e poi questa mano che può essere utilizzata ad esempio per sostenere uno dei libri oppure i campanellini quindi davvero una grossa possibilità poi ovviamente sul kakashi abbiamo i pugni chiusi e anche il pugno e la mano per la presa per poter utilizzare il kunai quello che adesso volevo mostrarvi che secondo me è l'accessorio più importante e più bello con questo kakashi è questo incredibile effetto chidori o mille falchi in italiano taglio del fulmine e rai kiri insomma innanzitutto la realizzazione la colorazione è di questo azzurro che non so se rende allo stesso modo in camera ma è un azzurro bellissimo più concentrato ovviamente dove inizia l'effetto e va via via diradandosi verso la trasparenza o verso il bianco o il colore argente o insomma verso la fine dei fulmini è davvero bellissimo e poi è enorme ragazzi poi ha una particolarità che è quella di potersi illuminare andiamo a dividere le due parti vi faccio vedere molto velocemente c'è questo sistema insomma c'è questa sorta di circuito con due batterie che ho già inserito ovviamente fornite da rocket toys che permettono di illuminarsi con quest'altro magnete questa sorta di calamita che viene data da rocket toys come vedete è possibile illuminare l'effetto e ci sono tre differenti stili quello fisso questo diciamo intermittente e poi può essere spento quindi niente interruttori nulla di nulla basta avvicinare questo magnete ovviamente poi per andarlo a mettere c'è la possibilità ovviamente di inserire la mano di Kakashi come vedete c'è questo foro quindi andremo a mettere la mano in questo modo e poi a chiudere il tutto così e poi ovviamente è esatto in questo modo così rimane fuori ovviamente la mano ed è possibile attaccarla poi al peg e come vedete avvicinando il magnete forse ragazzi ah ecco era dall'altra parte chiedo scusa avvicinando il magnete fa questo bellissimo effetto in questo blu luminescente e secondo me è davvero una figata quindi tanto di cappello anche da questo punto di vista per rocket toys ora ragazzi posiamo gli accessori e andiamo a vedere il nostro Kakashi Atake ed ecco finalmente Kakashi un impatto estetico davvero importante è veramente bellissimo secondo me davvero ben realizzato però andiamo a vederlo più nel dettaglio cominciando ovviamente dall'head sculpt abbiamo già visto quelli alternativi qui abbiamo la sua versione diciamo più classica con la benda, la fascia del villaggio della foglia sull'occhio a coprire lo sharingan la classica maschera e i capelli che abbiamo già visto in precedenza con questa verniciatura argentea classica per Kakashi ed anche al tatto sono davvero ben realizzati secondo me poi andiamo con le articolazioni ovviamente la testa è rotabile a 360 gradi può andare in basso anche un po' più di così in realtà ma non voglio spingermi oltre e anche in alto c'è il tessuto della tuta al di sotto diciamo che è elastico quindi permette una posabilità incredibile per quanto riguarda invece il gilet è imbottito di un materiale che ovviamente è tessuto e ci sono anche delle parti in fil di ferro come il colletto e le spalle che possono essere quindi adattate a tutte le pose che desideriamo davvero ottima la realizzazione di questo gilet e anche a livello di colorazione molto fedele a quello dell'anime qui il logo invece diciamo che viene riportato sulle divise se così vogliamo chiamarle dei Junin è davvero ben realizzato anch'esso di plastica un po' più dura ovviamente ed è riportato anche sulle maniche poi ovviamente articolazione anche del busto che può essere ruotato e piegato in avanti o indietro quindi anche qui ottimo lavoro andiamo invece verso le braccia con la continuazione quindi della tuta se così vogliamo chiamarla che è sempre in tessuto e articolazione delle braccia che possono essere alzate ovviamente portate in avanti indietro con articolazione a farfalla e articolazione del gomito che è doppia articolazione articolazione anche del bicipite no è legato alla spalla poi scendiamo verso i pantaloni quindi qui continua sempre il tessuto ottima la realizzazione nessun segno di usura presenza del magnete come potete vedere se vado a staccarlo ovviamente bisogna fare in questo modo per renderlo un po' meno visibile ma nel momento in cui andiamo ad attaccare la borsa con i campanellini è ovvio che il magnete si avvicina al tessuto quindi è più visibile però comunque sono dei magneti molto forti sono veramente molto contento e molto soddisfatto di questa cosa perché finalmente Rocket Toys sta innovando il settore delle 1 a 6 riempiendoli di magneti e sono veramente felice poi abbiamo questo porta kunai che sembra essere pelle ovviamente pelle finta ma sembra essere pelle molto bello molto ben realizzato che non è possibile comunque aprire con questa fasciatura per legarlo alla gamba a creare questa sorta di cosciale e andando verso il basso invece abbiamo queste bende da ricoprire le caviglie anche queste di un tessuto differente rispetto a quanto visto finora quindi bellissima anche questa cosa e il classico sandalo con la scultura e la verniciatura delle unghie anche per i piedi ovviamente articolazione delle gambe essendo un ninja è molto articolato anche in avanti apertura indietro è leggermente bloccato probabilmente dallo sculpt del sedere però comunque ottimo ottima mobilità ovviamente doppia articolazione anche al ginocchio ormai questo deve essere un must have e anche per quanto riguarda la caviglia ma non la punta o il colo del piede poi le mani che non avremmo visto nella sezione accessori sono ovviamente queste che possono diciamo andare ad afferrare i kunai queste che probabilmente io personalmente andrò a cambiare per rendere la posa un po' più dinamica per quanto riguarda le proporzioni generali ragazzi è una doll abbastanza alta perché comunque Kakashi è un personaggio alto quindi dopo andremo a metterlo a confronto anche con Itachi e magari con altre doll della collezione comunque un punto di vista sia estetico sia per quanto riguarda le fattezze dei materiali e della doll in sé secondo me ragazzi è bellissimo Rocket Toys fino ad adesso che ha realizzato Madara Itachi e questa è la sua terza realizzazione almeno per quanto riguarda il comparto Naruto Shipp Udenpo ha fatto altre due doll di altro ragazzi che non vi so dire cose orientali ma davvero sta migliorando sempre di più e davvero non vedo l'ora di vedere le prossime doll ecco Kakashi in posa in una delle sue pose questa è quella iconica di preparazione del Cidori so che la pose dovrebbe essere più bassa e con le gambe più divaricate ma per il momento l'ho posizionato così per poterlo lasciare sulla basetta e poterlo confrontare con Itachi sempre Rocket Toys come possiamo vedere le proporzioni vengono rispettate Kakashi è più alto anche se in questa posizione sembra essere alto allo stesso modo ma è più alto e sono davvero bellissimi insieme credo che una scaffalatura di Naruto ci voleva proprio qui abbiamo il piccolo intruso Sage Figures di Naruto Kid che ovviamente non rimarrà qui in collezione ne approfitto per farvi vedere come funziona il magnete basta semplicemente avvicinarlo senza nemmeno toccarlo e si accende il Cidori lo avviciniamo di nuovo e inizia l'intermittenza con l'intervallo un po' più lungo di nuovo intermittenza e di nuovo per spegnerlo davvero una genialata da parte di Rocket Toys complimenti bellissima questa cosa ed eccomi qui con Kakashi per le considerazioni finali su questo fantastico prodotto questa è l'ultima release fino ad oggi di Rocket Toys ma ce ne sono in cantiere tante altre tra cui Kisame Deidara Inata Tsunade Sasori e spero che questa line up di Naruto Shippuden continui con tantissimi altri personaggi perché Rocket Toys è in grado di fare davvero tantissimo ha avuto con questo Kakashi già un grandissimo passo in avanti rispetto all'uscita di Itachi è uscito qualche mese prima e spero che lo standard qualitativo rimanga questo anzi si alzi ulteriormente perché può fare davvero concorrenza alle big aziende del settore lampi di genio assurdi con l'utilizzo di fili di ferro di magneti l'ha trovata geniale di utilizzare un magnete per poter illuminare questo fantastico effetto Cidori quindi Brava Rocket Toys continua in questo modo perché grazie a te gli standard potrebbero alzarsi ulteriormente detto questo ragazzi non voglio prolungarmi troppo questo Kakashi per me rasenta la perfezione accessori incredibili sia come numero sia come qualità doll fantastica i raggi UV per poter illuminare lo sharingan queste piccole grandi trovate che sono per un utente appassionato secondo me la manna dal cielo detto questo ragazzi vi ricordo che come al solito ho comprato questo Kakashi da Il Colosso dei Nerd trovate tutti i link e la collaborazione che ho con lui qui sotto in descrizione e vi saluto Kakashi spero di poterci rivedere presto con un'altra Rocket Toys perché non vedo l'ora e detto questo ragazzi vi saluto ci vediamo con un prossimo video ciao a presto ciao 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 Grazie per la visione!